Salve a tutti, sono Manu, il produginio della Birindelli Auto e oggi andremo a vedere il funzionamento dell'ActiveGuard BMW. L'ActiveGuard è un sistema di sicurezza di serie per tutta la gamma BMW. Il sistema si basa in una telecamera CAFA sposta nella parte superiore del parabrezza, va a monitorare ciò che succede davanti a noi e in caso di pericolo di tamponamento dovuto una distrazione del conducente ci dà tre segnali. Il primo segnale sarà una spia rossa a forma di macchina all'interno del contagiro e contachilometri, dopodiché la vettura emetterà un suono, già da questi due segnali la vettura inizierà a precaricare l'impianto frenante quindi la vettura è già pronta per una frenata d'emergenza, in caso il conducente non vada ad effettuare la frenata la vettura frenerà per noi fino anche all'arresto totale. L'ActiveGuard ha tre settaggi principali e si possono modificare tramite questo tasto. Una volta premuto il tasto apparirà questa schermata, noi andiamo a premere configurazione tramite le drive, di nuovo confermiamo sul momento avviso e appariranno anticipato, medio e ritardato che sono i tre settaggi dell'ActiveGuard. Ovviamente in base a quello che noi andremo a scegliere la vettura, ci darà un avviso più ritardato oppure più anticipato. In questo video abbiamo visto il funzionamento dell'ActiveGuard BMW. Grazie, a presto!